A Palazzo Cisterna abbiamo un po' smontato l'architettura del palazzo, l'arredo interno, però abbiamo trovato una collocazione davvero particolare per questi percorsi dedicati al centenario della nascita del grande Primo Levi. Ma io credo che il contrasto fra questa mostra con le scale di alluminio grezzo, eccetera, il contesto aulico sia favorevole a un'interpretazione diversa di questo palazzo, soprattutto a un'apertura di questo palazzo che possa essere di nuovo luogo di incontro e luogo di riflessione per i cittadini. Infatti io sono molto grato alla città metropolitana di aver consentito che questa mostra venisse proposta a Palazzo Cisterna e che Palazzo Cisterna diventasse un luogo di incontro fra la cittadinanza e un autore la cui qualifica torinese indiscutibile, cioè Primo Levi è nato, è vissuto a Torino, ha amato questa città e quindi è importante che Primo Levi abbia a Torino il posto che si merita.